Ciao a tutti ragazzi, sono io Mattia99 e oggi facciamo la recensione di Ringo Goal con crema al cacao, al cioccolato, al cacao voglio dire Ciao ci sono anch'io No, levati Ecco il Ringo, prendiamo una cosa al cioccolato Una confezione E ora ragazzi proviamo ad assaggiarlo L'assaggiamo Zitto ma Com'è? Buono Quello però fa ingrassare Ma sta zitto, non mi fa ingrassare Si fa diventare ciccioni, poi fa venire tutto l'acne, le bolle sul viso, vedi? Scusate ragazzi, è mia madre che continua a parlare Guarda che bella ciccia che cresce Zitto Ok ci vediamo Ci vediamo presto Nel prossimo video, ciao Un prossimo brazo Un prossimo video, ciao Un prossimo video, ciao Un prossimo video, ciao Un prossimo video, ciao